Sei fuori? Vieni qua allora! Ah, che bellezza! Orietta, adesso possiamo ballare, Orietta! Col cazzo! Sei star! Sì, adesso li posso baciare? Allora... Ecco, qua è una vera diva, che ho sentito tutto. Possiamo vedere il stupolo. Non ti ingelosire tu, eh? Non ti ingelosire. A me piace Charlie. Ah, va bene. Mi hai distrutto il microfono, ma guarda che casino che mi fai. Allora, senti, che esperienza è stata per te? L'ho sottovalutatissima. Sì, è più difficile di quanto sembri? Sì, l'isola era una passeggiata paragonalmente. Quindi è più duro come gioco, più psicologico? Sì. Sì, eh? Il pettacollezio non mi piace, quindi...